musica Grazie. ma noi puoi dire comunque alle tette nelle filiali so cazzo è lontano è lontano tu pensi che è lì eh rigore rigore è rigore o è rigore ma dove è rigore 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 si ma stai sulla linea stai sulla linea bastardo dai ma non ti muovere si fa sentrata la telecamera vai a rivedere non sei il visore non è non è non è non è no, no, poi c'è un giocatore c'è un giocatore però è un giocatore che potrebbero essere oi, aspetta il giocatore io prendo salito se si edificano e si può è franciato dai 2, 3, 4, 50 anni e poi e quindi poi mano a mano cresci e poi poi il totale l'epoca 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 però parecchio l'epoca 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 E' bravo! Grazie a tutti